I lavoratori stranieri occupati in Italia sono il 10% dell'intera forza lavoro. Lo dice il rapporto semestrale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel terzo trimestre 2012, i lavoratori stranieri occupati in Italia erano oltre 2.350.000, di cui 783.000 europei e un milione e mezzo di origine extracomunitaria. Rispetto al terzo trimestre del 2011, l'occupazione straniera è aumentata di 81.000 unità, con una crescita di 37.000 lavoratori di provenienza europea e 44.000 extra UE. Tra il terzo trimestre 2008 e il terzo trimestre 2012, gli occupati stranieri in Italia sono aumentati di 480.000 unità a fronte di un calo dell'occupazione italiana nello stesso periodo di circa un milione di persone. Le imprese, tuttavia, afferma il rapporto, continuano a privilegiare contratti temporanei a discapito di quelli permanenti. La crisi ha colpito comunque duro anche i lavoratori stranieri, Nell'industria e nelle costruzioni la contrazione della domanda di lavoro è stata molto rilevante. In controtendenza il comparto dei servizi alla persona continua a manifestare una domanda nettamente in crescita. Complessivamente sale in misura molto significativa il numero di stranieri in cerca di lavoro, soprattutto nell'ultimo anno. I disoccupati stranieri, infatti, passano del 264.000 del terzo trimestre 2011 a 318.000 del terzo trimestre 2012, con una crescita della componente europea pari a 5.000 lavoratori in più, ma soprattutto di quella extracomunitaria con un aumento di circa 48.000 disoccupati.